Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video nel quale parliamo delle caratteristiche e dei vantaggi della membership e traveler Allora, le traveler innanzitutto chi è? È un viaggiatore, un viaggiatore fai da te, quindi una persona a cui piace organizzare viaggi per se stessa in maniera autonoma ma anche per amici e conoscenti e proprio a questa tipologia di viaggiatori abbiamo ideato questa postazione online quindi questa membership e traveler, come l'abbiamo chiamata, che include principalmente tre vantaggi e adesso andiamo a vederli proprio in questo video oggi Allora, innanzitutto il primo vantaggio che include questa membership è l'agenzia di viaggi online quindi questa intranet che stiamo vedendo in questo momento, che poi approfondiremo nella seconda parte del video abbiamo poi il CRST che è uno strumento di prenotazione professionale viaggi online che ti permette di accedere a delle tariffe molto agevolate e ti riconosce anche una commissione per ogni prenotazione che fai e poi il terzo grande vantaggio è sicuramente sono i viaggi per agenti quindi dei viaggi, tutta una selezione di offerte, viaggi riservate di norma agli operatori del settore turistico ma a cui possono accederci anche questi traveler con questa membership, grazie alla membership e che in media sono il 35-40% più convenienti rispetto ai viaggi diciamo rivolte al pubblico quindi una possibilità che diamo alla community per viaggiare ovviamente visto che è la passione che ci accomuna a tutti allora andiamo per ordine e guardiamo prima intanto il CRST perché sarà lo strumento che le traveler utilizzeranno più spesso quindi questo è il primo grande vantaggio che offre la membership questo sistema di prenotazione viaggi professionale adesso siamo entrati, lo vediamo, è questo, è molto semplice e intuitivo come interfaccia assomiglia ai motori di ricerca più diffusi e che cosa ha però questo sistema, questo motore di ricerca di diverso rispetto agli altri? beh, come dicevo prima, come anticipavo prima, ha due vantaggi principalmente ossia le tariffe, quindi i prezzi sono veramente molto competitivi perché si tratta di uno strumento business to business, questo è un B2B è uno strumento pensato, ideato e utilizzato dalle agenzie di viaggio e quindi proprio per questo ha accesso a delle tariffe che sono riservate alle agenzie del settore quindi ai professionisti del settore e per questo si ha accesso a dei prezzi che non sono rivolti al pubblico finale questo non lo dico soltanto io ma abbiamo fatto veramente decine e decine di, se non centinaia di ricerche di comparazioni con tutti gli altri vari motori di ricerca più diffusi nel web come ad esempio Booking.com, Expedia, Last Minute e via dicendo ed è risultato che nell'80% dei casi circa le nostre tariffe sono effettivamente risultate più competitive per questo ti invito a registrarti gratuitamente alla membership perché hai 15 giorni gratuiti proprio per testare la qualità del servizio e per fare anche delle ricerche e per renderti conto effettivamente se questo strumento vale la pena poi iniziare a far parte della membership quindi hai 15 giorni gratuiti per provare tutti i benefici della membership allora facciamo intanto una ricerca e vediamo per Miami ad esempio così vediamo un po' anche come funziona questo motore di ricerca che come vedi comunque è molto semplice allora come ti anticipavo prima qui puoi prenotare tutti i servizi del settore turistico praticamente quindi puoi prenotare sia il singolo hotel che il singolo volo che i vari servizi come noleggio auto come le attività, i trasferimenti addirittura anche le assicurazioni e puoi farlo in maniera singola diciamo quindi prenotando i singoli servizi oppure utilizzando delle funzioni più avanzate tipo ad esempio il crea viaggio che ti permette di assemblare più tutti i vari servizi in un unico pacchetto per andare a creare un unico pacchetto di viaggio personalizzato in base alle tue esigenze oppure poi abbiamo anche ad esempio i pacchetti viaggio i pacchetti viaggio sono dei pacchetti già preconfezionati già con delle scelte preconfigurate e quindi come se fossero delle idee di viaggio adesso possiamo andare a dare un'occhiata anche velocemente ma poi ti invito a entrare nel nostro canale youtube perché poi dentro al nostro canale abbiamo fatto dei video che approfondiscono poi nel dettaglio tutte le varie funzioni di questo CRS e anche l'agenzia di viaggio online che poi tra poco vedremo quindi questi sono i due vantaggi principali abbiamo detto le tariffe che sono veramente ottime che sono molto competitive e poi il fatto che per ogni prenotazione che fai questo sistema, questo motore di ricerca ti riconosce una commissione quindi che tu faccia la prenotazione per te, per un tuo viaggio oppure se tu devi fare la prenotazione per un'altra persona comunque tu accedendo alla membership su questo motore di ricerca hai il diritto a ricevere questa commissione che vedi in fase finale prima di andare in prenotazione ok, adesso torniamo nell'agenzia di viaggi online e andiamo a vedere proprio l'agenzia quindi entriamo sulla timeline quindi abbiamo questa sezione che funge praticamente come la bacheca una bacheca social come vedi è possibile condividere post con foto, immagini, link esterni è possibile mettere mi piace e commentare proprio come se fosse uno dei social più avanzati nel settore turistico un'altra sezione molto interessante e molto utile per le traveler è la sezione formazione perché qui dentro ci sono un sacco di video lezioni un sacco di video corsi che vengono tenuti giornalmente dai nostri consulenti professionisti consulenti di viaggio online professionisti che fanno questo di mestiere proprio che organizzano viaggi di mestiere e poi mettono a disposizione le loro conoscenze proprio a favore di tutto il network di tutta la community quindi le traveler poi può accedere a questa serie di video corsi di video lezioni anche in maniera live e poi le registrazioni vengono caricate su questa sezione formativa volevo farti vedere anche qui velocemente come funziona ci sono tutte le varie lezioni anche con i quiz quindi oltre alle lezioni video ci sono anche delle lezioni proprio testuali con dei quiz per capire poi se si ha la padronanza dell'argomento ok andiamo poi a vedere la sezione calendario ah un'altra cosa che volevo dire della sezione formazione è che queste lezioni sono tutte a tema turistico chiaramente quindi si possono approfondire delle destinazioni in particolare ma ci sono anche molti argomenti che hanno a che fare con il marketing il social media marketing con la comunicazione con la vendita e quindi con tutti quei temi che sono legati allo sviluppo dell'attività di organizzare viaggi online ok andiamo a vedere adesso il calendario il calendario lo possiamo visualizzare con varie modalità ad esempio noi scegliamo l'elenco e con l'elenco abbiamo appunto tutta la lista di tutti i vari appuntamenti che sono in programma nel network, nella community quindi ci sono sia questi appuntamenti formativi di cui abbiamo parlato poco fa quindi i learning webinar formativi che poi vengono caricati nella sezione formazione ma ci sono anche poi tutti i vari appuntamenti anche dal vivo come ad esempio l'open day dell'11 settembre che si terrà in Svizzera con la promotrice di riferimento Roxana e cliccando poi all'interno dell'evento si possono visualizzare tutti i vari dettagli e le varie informazioni del caso ecco ottimo all'interno del calendario si possono anche visualizzare tutti i vari viaggi per agenti che sono in programma un'altra sezione molto interessante è quella dei messaggi molto semplice, molto chiara è praticamente una messaggistica in tempo reale che ti permette di avere a che fare quindi di comunicare con tutti i vari membri della community un'altra poi altre due funzioni che vorrei vedere adesso in questo momento e poi se vuoi approfondire tutto il resto ti ripeto puoi andare sul nostro canale youtube e lì c'è un video che approfondisce tutti i vari argomenti tutte le varie funzioni ma in questo video adesso volevo vedere volevo dare un'occhiata diciamo a quelle principali a quelle più interessanti ecco quindi un'altra funzione principale un'altra funzione interessante è quella dei gruppi abbiamo un gruppo c'è il gruppo anche degli e-travel che adesso lo trovo ovviamente in questo momento vediamo lo trovo qui dove vengono inseriti tutti gli e-traveler di default quando si registrano ok quindi qui come vedi il gruppo funziona in maniera molto simile a quella di un gruppo facebook con una timeline dedicata che è visibile solamente ai partecipanti molto interessante è la funzione di zoom perché si possono organizzare meeting online con tutti i vari partecipanti del gruppo ma direttamente sulla piattaforma quindi direttamente sull'agenzia online sfruttando il software di zoom poi si possono pubblicare foto chiaramente raggrupparle in album e via dicendo ci sono anche le discussioni ecco questa è l'altra funzione che volevo vedere adesso dopo i gruppi che è praticamente la funzione del forum ogni gruppo infatti ha un forum al suo interno con tutte le discussioni ci sono i vari si possono aprire vari topic di cui parlare di cui discutere con i vari membri del gruppo ecco quindi i forum ci sono sia all'interno ospitati all'interno dei vari gruppi quindi ogni gruppo ha il proprio forum di riferimento ma i forum esistono anche in maniera slegata diciamo a sé stante quindi in questa pagina c'è l'elenco di tutti tutti i forum e sotto quindi io posso iscrivermi al forum che preferisco per rimanere aggiornato su quel determinato argomento e poi sotto c'è anche l'elenco di tutte le discussioni in maniera sempre slegata ma con a fianco l'etichetta del gruppo del forum di appartenenza quindi abbiamo visto anche questa sezione ecco adesso passiamo sicuramente al terzo grande vantaggio di questa membership che include la membership e traveler che sono i viaggi per agenti abbiamo detto prima che i viaggi per agenti sono veramente una chicca perché ti permettono di viaggiare a dei prezzi stracciati veramente molto convenienti in media lo sconto è del 35-40% ti basta accedere a questa sezione cliccare sul pulsante blu per accedere a questo portale dove sono presenti tutte le varie offerte dedicate agli agenti e dedicate anche agli e-traveler quindi con questa membership puoi accedere ti ripeto a questi viaggi che sono veramente molto convenienti e oltre al fatto che puoi viaggiare ma puoi anche conoscere veramente professionisti del settore puoi stringere nuove conoscenze nuove amicizie e poi ti basterà cliccare dentro a ognuna di queste offerte per vedere i dettagli per vedere il prezzo per vedere tutto quello che è incluso il programma di viaggio gli hotel, le foto di tutto quello che sarà il viaggio a questi prezzi che sono veramente veramente molto molto convenienti perché sono appunto di norma dedicati agli operatori del settore turistico e quindi hanno dei prezzi molto agevolati quindi ricapitolando adesso andiamo a vedere anche i costi della membership e traveller ricapitolando quelli che sono i tre vantaggi principali i tre strumenti principali che offre questa membership sono sicuramente l'agenzia di viaggi online che poi ci compone a sua voce di tante altre funzioni di tanti altri vantaggi il CRST che è il sistema di pronotazione viaggi professionale che ti dà a sua volta due grossi vantaggi che sono quelli delle tariffe agevolate super agevolate perché essendo uno strumento B2B ti permette di accedere a delle tariffe che non sono presenti nel mercato del B2C quindi del rivolto al pubblico finale e ti riconosce una commissione per ogni pronotazione che fai poi ci sono i viaggi per agenti che abbiamo appena visto ecco il tutto è racchiuso su questa membership e traveller quindi adesso guarda intanto questa sezione membership e traveller che costa 7,99 euro al mese mai la possibilità di entrare gratuitamente e provare gratuitamente la postazione con tutti i suoi benefici per 15 giorni quindi hai tutto il tempo di capire se può essere un servizio per te valido e poi puoi pagarlo anche eventualmente annualmente quindi annualmente costa 69 euro cioè uno sconto adesso non mi ricordo di un 20% circa risparmi più o meno 20% iscrivendoti alla formula annuale hai sempre accesso alle stesse cose e quindi questa postazione per chi è pensata è pensata per tutti quelli che tutti i viaggiatori fai da te come abbiamo detto all'inizio quindi tutti quelli che ad esempio come tu magari sei abituato a prenotare su Booking sei prenotato a prenotare su Expedia Last Minute o uno di questi motori di ricerca simili ecco la prossima volta puoi registrarti alla nostra membership accedere al nostro CRST vedere effettivamente fare delle comparazioni di prezzo capire che il nostro CRST effettivamente è più conveniente e quindi ecco questa postazione è veramente pensata per tutte queste persone che amano organizzare viaggi da sé e da oggi possono farlo anche e soprattutto accedendo a tutte queste funzioni che sono che sono un plus diciamo per la modica cifra insomma richiesta di 7 euro e 99 a mese quindi io ti invito a registrarti prima di chiudere volevo dirti anche un'altra cosa ossia che ogni volta ogni Traveler che si registra che poi entra nella membership e Traveler verrà associato ad uno dei nostri consulenti che hanno la postazione smart infatti la postazione smart è rivolta a tutti coloro che fanno diventare di questa di questo diciamo dell'organizzazione dei viaggi online il proprio mestiere quindi noi abbiamo anche una rete di consulenti di viaggio online che fanno questo di professione e ogni Traveler però non vediamo oggi questa postazione ma concentriamoci soltanto su quella per le Traveler quindi quella rivolta ai viaggiatori fai da te e quindi dicevamo che ogni Traveler viene collegato poi ad un consulente professionista perché questo per dare del supporto nel caso in cui le Traveler non riuscisse a organizzare il proprio viaggio non riuscisse a capire alcune dinamiche del motore di ricerca del CRST ha a disposizione quindi uno dei nostri consulenti al quale può rivolgersi anche per tutti quei viaggi che sono più complessi più complicati che le Traveler magari non è in grado di organizzare perché magari si tratta di viaggi importanti magari di viaggi lontani impegnativi e quindi si può affidare ecco all'organizzazione proprio a uno dei nostri consulenti di viaggi professionale professionisti quindi per oggi è tutto ti invito a registrarti gratuitamente noi ci vediamo dall'altra parte qui Grazie.